La Biblioteca Mediateca è una elegante e moderna struttura situata a nord del campus, in posizione rialzata rispetto agli altri complessi architettonici. Oltre alla consultazione e al prestito dei libri, quest'ultimo riservato solo dagli utenti istituzionali dell'Università di Genova, è anche possibile visionare in docco il materiale audiovisivo della Mediateca. Mediateca Mediateca. No, non c'è due. Grazie. Grazie.